Scusa, vai a riprendere loro, per favore, vai! Vai indietro, vai indietro, vai indietro, vai indietro. Via via la polizia, via via la polizia, via via la polizia. Giù le mani dalla nostra casa, giù le mani dalla nostra casa, giù le mani dalla nostra casa. Qualsiasi attività finalizzata a vietare o a ostruire l'intervento della forza pubblica in collaborazione al COCI sarà considerata un'attività di resistenza pubblico-file. Ora è sempre resistenza! Ora è sempre resistenza! Ora è sempre resistenza! ora ora non permettetemi non fermate non fermate il vento il vento io ci abito io ci abito non potete fortuna non vi potete permettere signori fate passare la forza scusi eh a casa mia con tutti i soldi le mani le dovesse chiudendo l'ospedale vedi la di questo non lo faccio a dichiarazione caratteristica via 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 quindi via 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 Provi ad andare a fronto su I Posti di là. Signore, state facendo resistenza alla forza. Dai, li viena a cordone. Dai, li viena a cordone. Dai, li viena a cordone. Quanti cordone? Cordone, dietro. Cordone, dietro. La cosa che per motivi di ordine pubblico, i signori, non li vogliamo. Non lo vogliamo tutto! Andate! Andate via! Andate via! Andate via! E' chiudete! Fuori! 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 Il treno porta volte, porta la voce, porta, dottor si forza. Vota, 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 perché è il treno qualche forte, vota, più a tutti va, vota, 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 vota. Voto che lo portate, votate, così fa, vota, 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 votate, 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 votate. Ora e sempre, il Presidente! Voto non si avrete, ma per la si difende!